salve a tutti amici sono MrDelleric ben ritrovati qui sul mio canale ben ritrovati su un nuovo episodio di Master of Orion riprendiamo immediatamente perché ragazzi hanno riconquistato sto cazzo di pianeta hanno riconquistato che gliel'avevo eliminato e dobbiamo assolutamente andare a toglierglielo quanto prima abbiamo solo due destroyer adesso anzi no un terzo che è qui io sposterei proprio questo attualmente eh no non lo so onestamente ma perché qua sicuramente ritorneranno a esserci dei pirati non sarà una cosa così importante perché sono comunque bloccati per cui creerei una flotta per andare ad attaccare questi stronzi ah no ma ci sta già andando qua una nave vabbè ce ne mandiamo anche ci mandiamo anche questa ok andiamo a passare immediatamente i dei turni ragazzi perché bisogna accelerare un po di cose ok qui abbiamo migliorato il morale di modo tale che tutte e tutti possano lavorare a pieno regime non ci siano non ci siano scioperanti qui abbiamo già un 1 per cento adesso di diciamo di inquinamento che va aumentando ogni turno con l'atmosferic rain viewer dovremmo togliere questo tipo di problema questo 1 per cento quantomeno lo blocchiamo dobbiamo fare una flotta degna di tal nome io vorrei capire se è possibile e se già abbiamo tra l'altro scusatemi no non le abbiamo ancora scoperte probabilmente fatemi vedere le la ricerca voglio vedere la ricerca se per caso no infatti non abbiamo ancora scoperto i troop transport siamo un po un po lenti sotto questo punto di vista va bene allora adesso eventualmente potrà essere la nostra il nostro futuro va bene auto resolve che qua dovremmo riuscire a fare tutto molto velocemente perfetto abbiamo risolto anche questo problema muoversi anzi sapete cosa faccio di bello lascio questa qua e questa che è più vicina risparmio qualche turno ok e mandiamo avanti questa ok ora per esempio questo si può distruggere perché perché questo pezzo adesso è pulito per cui inutile tenere occupare un punto a vanvera qui ok proseguiamo o il toxic processor qui è stato fatto o qua siamo messi molto bene ragazzi qui siamo messi molto bene com'è la l'inquinamento su questo pianeta 14 per cento allora noi potremmo fare due turni ma proprio due di per la pulizia di questo pianeta successivamente produrremo denaro anzi ve lo dico ve lo dico abbiamo molto più bisogno di denaro adesso per la situazione in cui siamo perché ho intenzione di spazzare via quei fottuti silicoidi lo spy center ancora non l'ho costruito io voglio metterlo a questo punto perché se no non lo facciamo più e vi dirò che lo metto anche qua sto puntando tutta la produzione perché siamo particolarmente indietro su questo pianeta per cui dopo dovrò cambiare cazzo ti pareva che non c'erano altri come si dice si altri piratili porca vacca vabbè toxic processor è quello che avevamo appena visto si l'automated factory ok tanto questo è un pianeta nuovo per cui per il momento va bene abbiamo la ricerca adesso dobbiamo scegliere tra il fusion beam e le fusion bomb qual è la differenza allora le fusion bomb sono più efficaci rispetto alle bombe nucleari che noi lanciamo i fusion beam sono più forti nel combattimento ed è una una dura lotta in realtà è io preferirei essere un po più forte in combattimento personalmente facciamo upgrade su tutto ok adesso puntiamo a questo ok upgradiamo questa questo destroyer lo facciamo con i fusion beam e dovremo fare l'upgrade a tutti gli altri ecco i silicoidi che vogliono vogliono crediti vi fottete brutti stronzi maledetti vi fottete cazzo hanno conquistato pure lì eh va bene va bene non è un problema non è assolutamente un problema adesso vi vengo vi vengo a salutare io non vi preoccupate qui abbiamo fatto l'hydroponic factory anche qua siamo un pochino indietro muoviamo tutte le navi vi prego dobbiamo velocizzarci allora qui va bene facciamo l'auto resolve ok allora facciamo l'upgrade anche a questa nave e vediamo mandandola avanti se troviamo il pianeta di questi pezzi di merda ok ora faremo anche deep sea ok e il toxic processor questo lo sposto più indietro però avanti avanti tutta da che ci stiamo muovendo per il momento ok stiamo producendo denaro più denaro non so come però siamo ancora indietro ragazzi qua eh vediamo vediamo come migliora la faccenda io sarei anche per costruire un destroyer pure qua allora mettiamola ragazzi e io vi direi anche che la potremo acquistare perché vorrei velocizzare tutto per cui l'acquisto so che perdo un sacco di soldi però voglio velocizzare e io dopo qua metterò il guadagno questo perché in questo modo sono sicuro di beccarli sti cavolo di pirati allora non sono in questo sistema andiamo avanti allora eccola qua la nostra nave becchiamo sti cazzo di pirati eh cerchiamoli destroyer complete stiamo indietro con i soldi non ca... urca miseria questo mi deve rimanere qua meglio se mi rimane qua perché vedo che stanno arrivando dei pirati per l'appunto allora anche un altro destroyer qui è pronto allora questo destroyer lo mandiamo a salutare i silicoidi da qua qui perfetto sono già in due una volta che saremo anche in tre io penso saremo a posto adesso qualcuno però mi deve spiegare com'è che sono così indietro di soldi sono indietro di soldi perché probabilmente appunto ho queste navi che devo mantenere ma mi pare abbastanza strano onestamente qui non ho altro vero da dover fare no perfetto allora adesso possiamo costruire qualche nave qualche nave truppa però non so neanche io dove cazzo farla questa nave truppa perché siamo indietro pressoché dappertutto è l'unica cosa che mi verrebbe da pensare da fare a parte che non capisco come mai allora intanto vediamo ci sono i troop transport e va bene però non si possono creare ovunque io voglia e non ho capito il perché adesso puntiamo a questo anzi anzi aspetta punto a questo qua perché c'è un il neutron collider che mi migliora mi velocizza tutte le produzioni per cui punto a quello ok qui sono state fatte le hidroponic ho d'accordo io adesso devo capire perché i troop transport non me li fa fare lo scout la fregata qua ci sono i troop transport ad esempio vediamo se riesco a farne qua vedete che qua non ci sono i troop transport perché questa è una cosa che non ho capito il perché qui i troop transport non vanno di moda vabbè ragazzi facciamoli qua cosa vi devo dire non gli darò una grande priorità purtroppo perché voglio prima puntare alla scienza voglio puntare a tutte queste varie cose alle spie perché sono necessarie anche quelle allora qua abbiamo due fregate e due destroyer io qui ho due destroyer ne ho un altro qua mi sa che avrò bisogno presto esatto facciamolo andiamo avanti bene signori ci siamo facciamo tutti i movimenti del caso siamo con una flotta interessante adesso perché abbiamo quattro destroyer fatemi vedere un po' la loro qui hanno due fregate una destroyer qui hanno una destroyer che sta per arrivare allora io gli fotto lo scout per prima cosa ciao scout ok ora signori io vorrei anche iniziare ad attaccare mi pare no allora qui va bene ancora devo capire perché qua non posso fare i troop transport non ne ho idea ma davvero è strana sta cosa ok qui sono state fatte le biosfere adesso facciamo le spie perché adesso entrando in anche perché non è che c'è bisogno di chissà quale fammi vedere allora ah perché c'è bisogno delle delle marine barracks adesso ho capito adesso ho scoperto cazzo mi serve allora facciamolo facciamolo mettiamolo subito a costruire vediamo chi ha bisogno di essere mosso ok tu non sto trovando chi bombardare allora proviamo a fare il giro lungo allora qua come stiamo messi ne abbiamo quattro mannaggia non abbiamo abbastanza soldi ce ne sono due allora facciamo passare un turno che poi dovremo avergli i soldi qui stanno facendo delle mosse un po' strane adesso i soldi ce li abbiamo facciamo l'upgrade perché è importante allora te allora se io rientro in guerra vediamo se ho abbastanza tempo per farlo vado qua faccio un attacco veloce si si vado in guerra non mi importa sono sopravvissuti si lo so lo so sei una merda rimango per un attimo ancora qua cazzo stanno costruendo adesso questi si muovono eh auto resolve maledetti pirati che danno fastidio allora muoviamo tutti voi attaccate nuovamente porca miseria adesso facciamo il nostro attacco uè ce la fai ma ce la fai allora aspettiamo un altro turno guarda che vengono qua questi pezzi di cacca si si ma tanto credo che riuscirò a fotterli penso si si sono entrati in guerra anche i darlok e i clacquon i clacquon mamma mia la popolazione sono più elevati i silicoidi di me va bene va bene adesso ci penso io a riequilibrare le cose fammi vedere un po' qua la loro flotta si li batto li batto cazzo i destroyer dai allora prima però facciamo il bombardamento qua ok gli ho distrutto la struttura adesso attacchiamo ecco che ho trovato i pirati maledizione viva allora facciamo questo attacco ragazzi eh dovrei riuscire a farcela ci sono due destroyer e due fregate prendiamo il comando voglio provare non so come verrà fuori eh ve lo dico speriamo sì sì saltiamo queste cose che sono dunque dove sono le mie navi ok queste sono le mie navi perfetto allora io direi che una pensa alle alle fregate ok le altre iniziano a darci dentro contro queste anzi sapete cosa faccio prima giù le fregate ma no tutte attenzione aspetta tu solo tu ma no tutte e tre perché me le stanno prendendo tutte e tre non voglio tutte e tre ma che due coglioni ok vediamo un po' perfetto così dovrebbe andar bene anzi sapete che cosa vi dico attaccatemi no non attaccarmi singolarmente ti prego anche tu attacca qua ok ottimo 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 dai 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 vagli addosso vagli addosso vai cazzo ho già messa malissimo questa ok me ne hanno fottuta una non importa tutti addosso adesso ottimo ottimo mamma mia me ne hanno fottute due ma adesso siamo due contro uno cosa sta succedendo qua perché esplosa è andata addosso a un ma stiamo scherzando non sono mica così sicuro beh mi ha mancato grandissimo ma sono andato a finire addosso a un cazzo di che brutto ho perso quasi tutta la flotta no due sono sopravvissute e attacchiamo la colonia certo drop all non l'abbiamo distrutta adesso la distruggeremo comunque no aspetta questo l'ho già fatto ovvero l'attacco sì per la miseria mi ha fottuto un sacco di navi perciò sotto a fare dei nuovi destroyer mettiamoci così anche qua anche qua anche qua stiamo facendo le spie mi servono dei nuovi destroyer decisamente quanto tempo ci impiego a farne cinque 29 turni un po' tanto per cui per il momento ho necessità ho altre necessità adesso diciamo vediamo oh vai oh vai ho trovato qualcosa a livello di scienza qualche cosa abbiamo una destroyer ma anch'io qui ne ho solo una porco cane loro ne hanno due niente devo fare una ritirata strategica mentre qui ok gli ho fottuto il cazzo di pianeta ritiriamoci adesso vediamo un po' le marine barracks sono pronte quindi adesso anche qua posso fare i troop transport neutron collider vai vai sì allora il discorso qua dell'inquinamento per il momento ce ne dobbiamo sbattere un attimo i coglioni è anche della scienza perché qua siamo siamo in frontiera praticamente per cui ho bisogno di puntare a tutt'altro facciamo il neutron collider la space base allora il destroyer lo metterò prima per il momento i soldi i ragazzi vanno un attimo un po' indietro ok cioè la nostra priorità attualmente è altro allora io comincerei a spostare questa nave e vediamo un po' ok scoperto quindi il neutron collider va bene allora facciamoci questi tre turni tanto sono solo tre turni per cui va bene qui avevamo detto già il research laboratori fatto anche qua abbiamo fatto già il research laboratori stanno migliorando molto a livello di scienza stiamo migliorando veramente tanto no beh questo ancora è beh no può andar bene in realtà può andar bene ok allora muoviamo tutti oddio qua ce n'è un altro di destroyer erano in due flotte diverse perché allora le spie sono pronte ragazzi le navi tornano perfetto non ho da doverle aggiornare per cui sapete che cosa faccio le potrei anche lasciare qui allora io questa nave gli dico direttamente di andare qua voglio bloccare questo ingresso però aspetterò anzi aspetto che prima arrivi qua che due coglioni ok allora le spie sono pronte e aspettano ordine allora ho una spia e in produzione ce n'è un'altra guardate che belle cazzo sono tutte robotiche allora visto che sono in guerra io adesso la assegno a una colonia e vorrei assegnarle assegnare le mie spie a questo pianeta ci impiega tre turni è un pianeta avversario vediamo cosa si può fare perché una la posso tenere a difesa cioè o meglio posso scegliere se fare difesa tenerle in difesa e fare controspionaggio oppure mandarle in un pianeta e creare qualche tipo di disordine voglio provare dobbiamo sperimentare perché non ho avuto un gran modo di fare delle prove ok quindi le spy center sono pronte orca miseria 5 turni costano un disastro va bene va bene oh che bello qua ci siamo attacchiamo benissimo più 1 di popolazione perfetto tu puoi rientrare andiamo avanti allora muoversi tutti chi è che ha bisogno di ordini voi avete bisogno di ordini per il momento rimanete qui a difesa andiamo avanti ancora ok la ricerca è pronta adesso l'energy io si io io punto a questa tutto tutto per il combattimento vai upgrade ci sono dei nuovi upgrade da fare quindi adesso questo sarebbe per la scienza qui cosa abbiamo le cruiser le cruiser senza neanche porci alcun tipo di domanda ok aggiorniamo immediatamente le due destroyer che noi abbiamo per migliorare la precisione delle nostre delle armi tra l'altro che abbiamo scoperto inizialmente andiamo avanti ancora oh guarda che si stanno spostando queste ah una cosa per togliervi i dubbi noi siamo bloccati in questo pezzo di galassia perché come vedete le rotte che ci sono qua vedete che sono in rosso ho bisogno di una tecnologia particolare io per poterle per poterle esplorare ok e quindi ho questo che è un è un tratto rosso anche questo è un tratto rosso e anche qua c'è un tratto rosso perché siamo proprio bloccati adesso quindi abbiamo di nuovo la spia che è stata assegnata quindi a questo pianeta vediamo che cosa possiamo fare come missioni allora possiamo rubare per esempio ecco le loro difese il morale della popolazione eccetera proviamo dobbiamo ancora sbloccare tutta una serie di cose però prima bisogna andare per gradi bisogna andare per gradi perché prima bisogna prendere dei dati poi possiamo fare delle infiltrazioni guarda che figa ma come l'hanno fatto bene lo spionaggio in questo gioco è stupendo sono quasi commosso ragazzi è bellissimo siamo qui vediamo se riusciamo ad aggiornarla sì riusciamo ad aggiornarla e io ti aggiorno vacca boia ok mi stai un attimo a difesa tre turni ancora muoviamo tutto le biosfere sono state completate qua va bene mamma quanto ho bisogno di navi dai muoversi tutti chi è che ha bisogno adesso di ok uff aggiornarti te non mi pare proprio il caso io ti tengo qua perché sei più vicino entrambi i fronti quello di pirati e quello e quello no i soldi sì va bene dai ho bisogno anche di quelli per cui avanti ah qua ci sono oh che bello pronto un nuovo destroyer perfetto lo spostiamo qui qua adesso sviluppiamo un po' la scienza perfetto va bene tanto tra un turno sblocchiamo ancora delle cose ok sì lo scout è tornato indietro allora abbiamo il cruiser signori abbiamo la possibilità di fare i cruiser quanto ci impieghiamo per farlo 19 19 turni però questa è la nave non è una nave no non è neanche la nave perché ce ne saranno di più grandi probabilmente però qui ci dovremmo mettere di meno è solo però signori che dovrò tenere la cosa in questo modo perché altrimenti non andiamo più avanti anche se a dire il vero ho più urgenza della cruiser allora io disporrei in maniera diversa però perché la scienza va bene tutto però adesso ho più bisogno delle navi per cui la cruiser costruisco costruisco prima il neutron collider perché mi migliora la produzione quindi ci impiegherò poi meno turni a costruire il cruiser questo è ovvio quindi facciamo così allora va bene adesso il cruiser oh la titanium armor perfetto 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 dobbiamo mamma mia quanti upgrade ci abbiamo da fare ragazzi non avremo soldi mai a sufficienza va bene facciamo questo adesso ho abbastanza soldi si facciamo gli upgrade del caso questi sono già stati upgradati anche questi sono già stati upgradati ok ok un'altra destroyer pronta qui ne abbiamo due adesso ce ne sono tre io proverai a cominciare a dar fastidio intanto vorrei distruggere quello che hanno costruito qua o quello che hanno cominciato a costruire ok allora ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate io credo che il sistema delle spie sia eccezionale ditemi che non ho altre navi vero in produzione perché ecco per esempio questa la vorrei fermare perché siamo già 20 su 25 vabbè che adesso sto per costruire un'altra starbase qua fra poco e qui ce l'abbiamo in produzione no ne ancora e ce la mettiamo cavolo perché se no facciamo così ok per cui ragazzi un pollicino un pollicino in su ragazzi che per me sapete è importante per voi è un attimo io vedo tante visualizzazioni ma pochi pollicini in su e per me veramente questa cosa è importante per capire quando una serie possa piacervi o meno e quindi anche il vostro commento ragazzi consigli e noi come sempre ci vediamo un prossimo episodio state in campana alla prossima